Un problema difficile da risolvere, eppure sempre più grande per chi lavora all'ospedale di Foligno, oltre che per pazienti o visitatori. Stiamo parlando dei parcheggiatori abusivi che guidano le auto in arrivo verso i posteggi liberi chiedendo denaro in cambio. Una forma di accattonaggio sempre più insistente ed invasiva, con un numero crescente di africani, oggi erano circa una quindicina, li vedete nelle immagini, che abbordano gli automobilisti che scendono, stanno per salire nelle auto chiedendo loro monete. Numerosi telespettatori ci hanno segnalato il problema più volte e già da tempo ci occupammo della questione che oggi sembra impossibile da risolvere. Se nell'agosto del 2012 si rese necessaria l'ordinanza sindacale con la quale si stabiliva il divieto di mendicare fuori dai supermercati, ma anche lungo le vie e in qualsiasi altro spazio pubblico e privato, pena multe da 25 a 500 euro, oggi scopriamo che questo dispositivo non basta. I parcheggiatori abusivi alla vista delle auto delle forze dell'ordine scappano e quelli che vengono colti in flagranza, anche se multati, non pagano, immuni dalla procedura coattiva di riscossione. Seppur immigrati irregolari, molti di loro infatti sono senza fissa di moro, cambiano velocemente domicilio o residenza. Le multe in media di 50 euro restano dunque ignorate dagli accattoni che costituiscono un problema soprattutto per donne e anziani, intimoriti dall'insistenza con la quale viene richiesto loro il denaro. Oggi filmando la presenza degli abusivi al San Giovanni Battista abbiamo raccolto anche la testimonianza del personale interno all'ospedale. Qui una donna riferisce ad aver scelto, come altre colleghe, di parcheggiare fuori dall'area d'assedio, nel parcheggio del complesso residenziale di uffici che sta davanti all'ospedale, camminando qualche metro in più pur di sfuggire alle pressioni degli abusivi e per scongiurare, ci dice, il rischio di vedersi l'auto rigata sulle fiancate come è accaduto a diversi altri automobilisti. Sebbene gli atti vandalici sulle auto non ci siano confermati da vigili urbani e carabinieri, basta fare un giro e sentire chi lavora qui tutti i giorni per capire che si tratta di un problema reale. Già un anno fa il capitano dei carabinieri, Andrea Mattei, parlava di numerosi episodi di accattonaggio molesto ed insistente, tanto da richiedere l'apposita ordinanza poi firmata dal sindaco Mismetti. Da allora l'impegno delle forze dell'ordine è stato grande e notevole, ma non è servito ad arrestare l'ondata di abusivi che qui, come nel piazzale della Copa, Gorao e in altri grandi supermercati di Foligno, inseguono i clienti alla ricerca di un euro.